Facendo ora, non girare magari, non sbattere le uova, mi piacerebbe continuare sia a ballare, come sta andando? Ho messo un pochettino di salsa di soia, sta andando benissimo. Un po' più energica forse devo essere. Va benissimo. E continuare a ballare perché nel frattempo comunque do sempre degli stage di danza, insegno in delle scuole, ballo magari come ospite. E in più reciti pure. E in più, sì, studio, recitazione e recito, come no. Prendo un pochettino. Voilà, frittatiella e via. Vedi? Ora facciamo una frittatina. Però ho tutto qui a Roma, naturalmente. Sì. Giusto? Tu te ne stai nella tua casetta a Prati. Guarda, a me piacerebbe avere, sarebbe proprio il massimo vivere sia nelle Marche che a Roma. E tu mi dici come fai? In realtà lo sto già facendo ora perché io se non lavoro me ne sto a casa, con la famiglia, con gli amici, agli esi, tranquilli. E lo so io perché lì c'è qualcuno che ti fa battere il cuore. Ho sbaglio? No, è vero. È vero, dai, lo possiamo dire. Io continuo a sbattere. Alice, tu continua a sbattere le uova perché devono essere belle, omogeneizzate. Non ti muovere perché la pubblicità incombe. Ma noi torniamo qui ad Indovina chi viene a cena con Alice Ballagamba. Prima di aver guardato il video, prima di aver guardato il video, prima di aver guardato il video.